Una riproduzione fedele della cella di Padre Pio da Pietrelcina all'interno del chiostro di San Leone a Bitonto. È stato Padre Pietro a benedirla lo scorso 18 settembre alla presenza dei volontari dell'Associazione I Miracoli dell'amicizia. Questa cella che è stata riprodotta non è l'unica cella perché lui ha avuto altri luoghi, altre stanze del convento dove ha dimorato nei lunghi anni della sua permanenza ma certamente questa è stata la cella degli ultimi anni di Padre Pio. Per cui possiamo dire che i muri e tutti gli oggetti che sono rappresentati qui veramente in una maniera molto fedele. In effetti, come diceva Franco Nagliere, chi non può andare a San Giovanni Rotondo se vede questa cella è come se si trovasse lì davanti alla cella a San Giovanni che è custodita in una maniera veramente, ovviamente sarà come un luogo santo, un luogo dove ha vissuto un santo, le sue sofferenze, i suoi incontri con Dio. Allora ecco quest'anno abbiamo accolto questa idea. Si tratta di una ricostruzione fedele della stanza in cui il frate con le stimate ha vissuto e pregato per anni nel monastero di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo e dove ha terminato la sua esistenza. Una riproduzione molto curata e fortemente d'impatto che più volte dallo scorso anno era stata richiesta per permettere ai tanti fedeli la possibilità di un momento di preghiera per chi era impossibilitato a raggiungere l'originale a San Giovanni Rotondo. In realtà questi ci toccano un po' il cuore e l'anima, ci aprono l'anima. Come tutti i fedeli, anche io molto credente, credo effettivamente in questa processione, in questo momento molto forte che Bitonto risponde da circa dieci anni. Devo ringraziare Franco, Franco è un grande amico, lui crede molto in questa associazione e noi anche, adesso parlo come istituzioni, crediamo molto in lui perché queste cose fanno bene alla realtà bitontina. È un momento di comunità, è un momento di comunione e quindi è giusto che vengano poi condivise insieme ai fedeli e insieme a tutta la realtà religiosa. Francesco Naglieri, il presidente dell'associazione Bitontina Aima, ai nostri microfoni, ha raccontato che dopo l'esperienza dello scorso anno ha riproposto l'iniziativa per far fronte a tutte le richieste giunte e non soddisfatte nella scorsa edizione. Ho voluto portare la gente a pregare davanti alla cella di San Pio. Ci sono tanti ammalati, c'è tanta gente che non può raggiungere quel luogo. E visto che l'anno scorso molte persone hanno gradito e hanno apprezzato e hanno pregato davanti alla cella che abbiamo fatto in sede, quest'anno il San Leone, il parroco, ha voluto portarlo in questo luogo. Quindi abbiamo voluto portare San Pio reale in questo luogo. Ovviamente il merito va in modo particolare e ci tengo al vicepresidente, a Antonio e a un consigliere, Michele, che hanno veramente realizzato, e sottolineo, con fede e con tanto amore. Vogliamo portare un messaggio. Vogliamo dire che San Pio non è degli anziani, San Pio non è dei vecchi, San Pio è dei giovani, San Pio è nostro e vogliamo che, riportando fedelmente questa stanza dove lui è morto, dove lui ha lasciato il corpo, ma è vivo nello spirito, vogliamo portare un messaggio di fede. Le nostre telecamere sono entrate nella stanza prima dell'apertura al pubblico e all'apertura della piccola porticina siamo stati pervasi da un senso di umiltà in fede, ben sapendo che all'interno della stessa sono stati vissuti gli ultimi anni di un santo che in quella piccola dimora ha deciso di realizzare il suo grande sogno attraverso la realizzazione della Casa Sollievo della Sofferenza. La cella sarà aperta fino al 25 settembre, dalle ore 18 alle 21.30. Grazie a tutti.